Come chiaramente indica il nome stesso, Villanova fu una nuova fondazione, voluta dagli astigiani nel 1248. Creata in un luogo particolarmente strategico per i commerci, lungo la via Fulvia che collegava Torino con Tortona, in un luogo che aveva visto la presenza di antichi insediamenti di età preromana e romana. L'importanza strategica della città la fece diventare, agli inizi del XVI secolo, una piazza forte, con la costruzione di mura e due torri di vedetta, volute da Francesco I di Francia. L'aspetto medievale della città è testimoniato da un palazzo quattrocentesco in via Roma decorato da elementi incotto e dalla Torre dell'Orologio, costruita nel 1414 dopo l'approvazione degli statuti cittadini. Di origini medievali anche la parrocchiale di San Pietro, più volte rimaneggiata e con arredi di particolare qualità, compresa un'ancona linea dello scultore Enatem del 1633 ed una tela di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo. Anche la parrocchiale di San Martino è di fondazione antica, precedente la Villanova e in origine appartenente alle monache benedettine di Corveglia. Poco lontano dalla città è il Castello di Corveglia, luogo già citato in una donazione di Ottone III del 1001 alle monache di Pavia, che lo rivendettero nel 1215 al comune di Asti, il quale a sua volta lo fortificò. Passò poi agli agostiniani lateranensi e infine, dopo alcune vicende anche efferate, ai feudatari Ponte e Capris, autori di profonde modifiche alla struttura del castello. Grazie a tutti!